Ciao a tutti che mi ascoltano attraverso la radio o del sito Brasilitalian, sono Caciani Meurer di Corbella, Paranà. Arriva il momento di ringraziare a Dio per la vita e domandare benedizione, protezione, affinché siamo sempre giusti e dritti con Dio. Ascoltiamo adesso la preghiera del giorno. Tu che sei nato in una stalla, tu che aveva una manchatoia come cuna, tu che nelle robe non porteva cosa di lusso, che aveva povere savate, mi fa vedere la strada della umiltà, non voglio essere piccissimo, non voglio aver orgullo, signor, perché tu hai insegnato che siamo un differente dell'altro. Che le mie conquiste e sviluppi non sia motivo di vantaio, ma sì motivo di vera allegria. Voglio riconoscere le qualità delle altre persone. Voglio stare felice con i sviluppi dei altri, come se fosse conquiste mie. Tu che avevi Maria come mamma, una semplice donna del popolo, tu che avevi Giuseppe come pare, un modesto muratore, mi fa vedere la strada della umiltà. Così sia. Tu che mi ascolta, cerchi.